Un aiuto considerevole che non immaginavo viene dal cittadino. Il cittadino ci fornisce indicazioni molto specifiche e analitiche e questo ci permette di facilitare notevolmente il nostro lavoro. Qui si pensava in un primo momento anche nella logica tipica della polizia locale che queste segnalazioni anche nella forma anonima non avessero nessuna valenza. Non è proprio così perché nell'ambito dell'illecito amministrativo la 689 ti permette proprio di partire dall'esposto che arriva anche in forma anonima e quindi poi svolge tutta un'attività di indagine che ti porta poi ad identificare il trasgressore e quindi ad applicare la sanzione. È una cosa che non si deve fare. Se hai 300 euro, 800, me è tutta un'altra cosa, non starò qui. Però se il messaggio è quello di non buttare e di non fare sporcizioni, ben venga anche la multa se è il caso. Io sono contrario al fumo e spesso vedo, dopo che finiscono di fumare, la prima cosa che fanno? Insomma, magari se parli di altro, dici no, ma io rispetto. Quando si tratta di sigarette non lo rispetto, non serve per fare. Ecco, questo è un messaggio che spero che passi, ragazzi. Ha punito chi sporca? Sì, penso di sì. Va bene, sono d'accordissimo, perché Raguse è un porcile. E il sindaco non è che solo dovrebbero vedere qua il centro, dovrebbero vedere anche le periferie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.